Ben trovati cari amici di Globus Television, d'Antonella Guglielmino. Ecco le nostre notizie. Sabato 28 gennaio all'Hotel Mercury a Catania si è svolto il convegno organizzato da Lions Club Catania Host sull'associazionismo di servizio e il mondo dell'università. Moderato dal dottor Antonio Pogliese presenti due candidati al Rettorato dell'Università di Catania, il professor Francesco Basile e il professor Enrico Foti. Guardiamo il servizio a cura della collega Maria Luisa Sisinna. Buonasera, sono Maria Luisa Sisinna, vi parlo dall'Hotel Mercury di Catania dove fra poco si svolgerà il convegno organizzato da Lions Catania Host a favore dei due candidati alla carica di magnifico rettore di Catania, il professor Francesco Basile e il professor Enrico Foti. Intanto siamo qui con Antonio Bellia, il vicepresidente del Lions Host Club di Catania. Dottor Bellia, come la vede questa candidatura del professor Basile e del professor Foti? Noi non siamo qui per fare una campagna elettorale e due candidati che stimiamo tantissimo. Siamo qui perché riteniamo che l'associazionismo di servizio attraverso i principi di sussidilità e di buona cittadinanza vedono i Lions Club impegnati nel sociale. L'università ci interessa, è una delle cose che ci interessa di più perché può essere un volano di sviluppo per la nostra economia. Quindi il Lions Club è vicino all'università, vuole essere vicino all'università e vediamo stasera se possiamo porre le basi per una sinergia, per lavorare in un futuro insieme per il bene di questa comunità. Perché il Lions Catania Host ha deciso di organizzare questo convegno per la carica dei due professori? Proprio per questo, per vedere come si pongono i due candidati, perché uno dei due sicuramente sarà il lettore del futuro, per vedere come si pongono questi due candidati nei confronti dell'associazionismo di servizio, se intendono valorizzare le professionalità che nell'ambito di quest'ottica vengono a muoversi proprio nell'associazionismo, perché possiamo insieme lavorare e fare delle cose veramente stupende per la nostra realtà. Siamo qui con il dottor Antonio Pogliese, commercialista e past governatore del Lions. Dottore Pogliese, cosa può fare la politica per l'università? Io tenderei a invertire l'ordine. Cosa può fare l'università per la politica? Nella mia deformazione, anche del dottore commercialista, l'università per Catania è l'azienda più importante che abbiamo a Catania per i suoi asset materiali e immateriali, per il patrimonio umano costituito dai docenti, dal personale amministrativo, dagli studenti, per le risorse che io lo gestisci. E se noi consideriamo che nell'attuale momento storico, per svolgere qualunque attività, professionale, imprenditoriale, amministratoria della cosa pubblica, la conoscenza è una precondizione e la funzione primaria dell'università è quella, attraverso la ricerca di fondi della conoscenza, che è l'ultimo anello della formazione. E quindi la conoscenza diventa solta presupposto per lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico che a sua volta è presupposto per lo sviluppo dello sociale. Per cui io invertirei l'ordine dicendo che cosa può fare l'università come soggetto politico. Sono con il professore Enrico Foti, docente di idraulica alla Facoltà di Ingegneria di Catania. Professore, perché dovrebbero scegliere lei e non il suo avversario, gli elettori? Perché nel mio programma io cerco di rimettere al centro dell'attività universitaria lo studente e di rivolgere tutte le energie in quella direzione. Anche la ricerca e anche la terza missione, cioè i rapporti col territorio, devono essere funzionali a quella che è la nostra prima mission, cioè la didattica. E com'è messa l'università di Catania? Come la vede? Ci sono fondi per i giovani ricercatori? Ci sono soldi? Siamo messi male in generale in Italia, quindi in particolare anche nell'università di Catania. Quello che possiamo dire però è che abbiamo tantissime potenzialità in espresse e che dovremmo invece valorizzare e fare esprimere al meglio. Buonasera, sono qui col professore Francesco Basile, professore di chirurgia generale all'università di Catania e candidato alla carica di magnifico rettore all'università di Catania. Professore Basile, un motivo per il quale dovrebbero scegliere lei e non il suo avversario? Io ho maturato una vasta esperienza all'interno dell'università in vari ruoli, non ultimo, anche se ultimo in ordine di tempo, quello di presidente della scuola di medicina. Devo dire che questa esperienza la vorrei mettere al servizio dell'Ateneo, al servizio principalmente degli studenti. Io penso agli studenti come fulcro della nostra attività, attorno a loro ruota tutta la nostra attività, anche la ricerca, perché dobbiamo anche insegnare a fare ricerca. E credo che l'impegno verso i giovani che io ho sempre preso e continuo a prendere sia il motivo principale per cui votare. Sabato 28 gennaio i Vevecura hanno presentato al Ma di Catania il nuovo album Mi Plus One, con una gran concerto. La band Modicana, nata dalle mani del polistrumentista Davide Iacono, è giunta al suo quarto disco che propone un sound rinnovato e sperimentazioni su ritmi e armonia, pur rimanendo fedele alle sonorità etere che hanno sempre caratterizzato la sua musica. L'esperienza live si configura come un imprevedibile viaggio verso pianeti lontanissimi dentro al cuore. Ad accompagnare Davide Iacono sono stati Salvo Scucces, synth, percussioni, sax, soprano, programmazione, Salvo Puma, chitarra elettrica, basso, programmazione e Milo Esgro alla batteria. Ecco il servizio di Salvatore Pappalardo. Ci sono dei richiami agli anni 80-90, giusto? Sì, sì. Ci piaceva questa cosa di miscelare un po' delle atmosfere 70-80-90, però cercando di ricreare un suono, lavorare un suono che fosse del tutto contemporaneo. Quindi l'evoluzione, il passaggio quasi netto all'elettronica pura, è stato quasi un percorso che ti ha portato ad arrivare a questo... Sì, non c'è mai stata una forzatura, devo dire. Questo disco non esce così perché volevo fare qualcosa di più commerciale per la gente. È una mia esigenza personale, è cresciuto di disco in disco, adesso c'è stata un po' più la svolta e mi piace questa nuova veste più elettronica. La chiesa di San Benedetto di Via Crociferi riapre le sue porte grazie ad un accordo di gestione tra le monache benedettine e l'associazione officine culturali. A partire dalle festività agatine, infatti, sarà possibile immergersi nello splendore barocco della chiesa di San Benedetto. Officine culturali impegnate da sette anni nelle attività educative e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città al Monastero dei Benedettini, all'Orto Botanico e al Museo di Archeologia dell'Università di Catania. Grazie all'esperienza acquisita anche all'interno del Bookshop del Cassello Ursino, è stata incaricata dalla comunità monastica di San Benedetto di rilanciare e gestire i servizi di fruizione e comunicazione del meraviglioso gioiello tardo barocco catanese. Parliamo di teatro a Catania, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio. Al Teatro Ambasciatori torna in scena il musical Agatha Amor Omnia Vincit, realizzato dalla Compagnia Artesia. Il musical è ispirato alla vita di Sant'Agatha, il punto è stato scritto e sceneggiato da Chiara Allegra e Paolo Filippini, quest'ultimo firma anche la regia, con le musiche di Mirko Spinsanti. Sul palco una quarantina di artisti, trattori, cantanti e ballerini, tra i quali nei ruoli principali Ornella Brunetto, la martire Agatha, Emanuele Puglia, il proconsole Quinziano, Raffaella Bella, Apolla, madre di Agatha, Santi Consoli, Rao il padre. Lo spettacolo nella sua prima edizione ha già riscosso un eccezionale consenso tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori. E ancora parliamo di festeggiamenti agatine. Il sindaco lo ha detto consegnando la candelora d'oro alla corte del Palazzo degli Elefanti a Salvo Consoli, che idealmente rappresenta tutti i componenti del gruppo di protezione civile di Catania. Sono felice di premiare idealmente con Salvo Consoli tutti quei volontari che rappresentano una grande ricchezza per Catania, l'anima migliore della città che affollano stasera la corte di Palazzo degli Elefanti. Lo ha detto il sindaco Bianco, appunto parlando durante la cerimonia di consegna, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, ma soprattutto con la partecipazione di tutto il mondo del volontariato nella ventesima edizione della Candelora 2017. Oro prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno durante la festa di Sant'Agata a personalità che si sono distinte nei campi delle professioni, delle scienze, della cultura e del volontariato e dello sport. Consoli ha risposto per me, che coordino il gruppo appunto di protezione civile del Comune, rappresenta una grande emozione essere qui davanti alla città, alla nostra santa, al nostro sindaco e ricevere questo riconoscimento che ci riempie di gioia per l'affetto che ci viene dimostrato. Per questo voglio dirvi solo grazie. A nome di tutti coloro i quali hanno lavorato per far diventare il termine volontario una bellissima parola. Da Globus Television è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.